2, 2, 1, di sezio Ciao Alice, che sono Sì, non ci vota più E' anche lei, che vota Sì, che vota Sì, che vota Sì, che vota Sì, che vota Vediamo se viene fuori il dato, credo proprio di sì Secondo noi il nuovo sindaco di Milano dovrebbe essere Giuliano Pisapia dico dovrebbe perché dovrebbe avere i famosi 4 punti in più di distacco dalla Moratti 4 dovrebbe avere più il condizionale è sempre d'ottimo ma la grana di 4 ora ci sono la musica sotto e poi parte cos'è il parolo? è il parolo è il parolo